Andrò a fare un altro regalo, ma solo se questo video raggiunge un bel numero di like, ben 50 like, quindi lasci un bellissimo like ora di 5 secondi, quindi 5, 4, 3, 2, 1 e vai a lasciare un bellissimo like in questo momento se vuoi ricevere anche un codice skin, appunto della skin di Spider-Man, come fare, ben 50 like e condividere appunto questo video con tutti i miei amici, i vostri amici. E poi così nel prossimo video vi andrò a dare il codice attraverso, diciamo, un giochetto che faremo e il primo che mi dirà appunto la parola segreta, vi mostrerò subito il codice. Ovviamente tutti avete la possibile di sbloccarla, non solo quello che indovinerà la parola. Se vuoi che vi vado a lasciare anche altri codici, mi raccomando dove prendere ora questo oggetto a meno di 4€ andando sotto alla descrizione, nei commenti e andare a prendere il link dove troverete appunto questi articoli, prenderli appunto col mio codice di riferimento. E in questo modo mi sopportirete e nel prossimo video andrò a rilasciare il codice skin, codice creatore e coding game 102, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, bye!